La battaglia comincia! Attento ordini! Chiudo! Caccia in volo! Forza nemica in vista! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! Ho bisogno di dati! Caccia in volo! 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 Il caccia torpediniere nemico è saltato in aria! La squadra nemica è in vantaggio! I nemici stanno per vincere. In avvicinamento al bersaglio. In avvicinamento al bersaglio. Aperciò. Grazie a tutti. L'incrociatore nemico sta colando a picco. Caccia in volo. Abbiamo affondato un cacciatorpediniere nemico. L'incrociatore nemico sta colando a picco. L'incrociatore nemico sta colando a picco. Caccia in volo. Problema risolto, signore. Caccia in volo. 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 L'incrociatore nemico sta colando a picco. La battaglia terminerà tra cinque minuti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.